Buonasera tifose e tifosi di Firugitv, benvenuti al Centro Sportivo Pietro Pisani in Palermo per Buon Pastore Città di Carini, un saluto da Gaperico Bono. Apertura qui, sbaglia Antonio, non è da lui. Poi attenzione, azione per il tiro, palo e la rete, gol del Città di Carini. Randazzo contro Di Martino, destro lo spiazza, c'è il gol di Randazzo. Antona! Antona! 2 a 2, Buon Pastore! Antona! Antona! Attenzione, per il gioco forse Giambanco, no! Giambanco! Giambanco! Reta! Gol del Città di Carini, è arrivato subito al vantaggio. Palla dentro, palla nel cuore dell'aria, sbucca in destra la rete! Gol del Buon Pastore! Gol del Buon Pastore, ha segnato il Buon Pastore! 3 a 3! Ancora Urso, arriva su questo pallone! Urso, la mette giù! Ancora Urso, il tiro da fuori! Urso! Che gol! E 4 a 3, Buon Pastore! Urso! Ancora Urso, è finita! Finisce qua! Buon Pastore 4, Città di Carini 3!